Innanzitutto era importante raggiungere Bologna per giocarsi questa ennesima competizione di alto livello e sì credo che il primo set non è che sia stato diciamo facilissimo siamo stati sempre davanti ma siamo arrivati abbastanza vicini con loro sono partite chiaramente che vanno giocate momento per momento siamo stati bravi a reagire a un terzo set dove abbiamo subito forse un po troppo la battuta dei nostri avversari questa è una cosa che chiaramente è motivo e sarà motivo insomma di lavoro perché bisogna contenere meglio perché un po tutte le squadre hanno dei grandi battitori quindi sicuramente lì possiamo fare dei passi in avanti ma l'importante era vedere poi la reazione nel quarto set quando la partita è diventata ancora più dura no e quindi penso che l'abbiamo interpretata e giocata bene. Fefe punta al poker a Bologna? Noi non è che andiamo per vedere diciamo cosa fanno gli altri andremo lì insomma è una competizione di altissimo livello e la voglia è quella di arrivare lì l'importante adesso è esserci adesso Bologna sarà più avanti avremo due impegni in Champions League importanti e quindi ci prepariamo per domenica contro Trento. C'è un mese in mezzo con tanta roba dentro. Sì sì ormai giocheremo tantissimo e riparte diciamo sempre quel concetto che chiaramente allenamenti ce ne saranno pochi e riuscire a essere bravi a migliorare anche durante le partite alcune situazioni della squadra.